Quali sono attualmente i trend per la Puglia che esporta? Quali sono le nostre eccellenze e invece le criticità dei nostri comparti export? L'incremento delle esportazioni è significativo in tutti i settori produttivi della regione e questo è sicuramente il risultato diciamo di anni di lavoro e di investimento sull'empowerment delle aziende nel incrementare i rapporti con l'estero e anche tuttavia il frutto, questo non possiamo negarlo, degli effetti della pandemia per cui a seguito di un calo significativo percentuale di oltre dieci punti delle esportazioni la ripresa e quindi l'incremento dei volumi di export in tutti i settori è in qualche modo l'evoluzione naturale della curva. Per quel che riguarda il posizionamento invece della regione in particolar modo nei settori chiave della new economy e quindi in particolare nei settori dell'innovazione tecnologica digitale di supporto alla transizione energetica le politiche regionali di questi ultimi anni e posso anticipare sicuramente del prossimo settennio spingono in maniera forte nella direzione verso investimenti di questa natura. Nelle nuove misure del POR sono espressamente previsti gli investimenti per la sostenibilità e l'autosostenibilità energetica delle nostre aziende quasi come prerequisiti di accesso a tutte le misure di incentivazione.